Ehi, ma oggi non eri in forma, eh? Domenica a casa andavi come un missile, eh? Domenica andavi d'addio! Giù! Ma vai, non c'è niente qua, eh? Poi, insegnite lo scarpone del massimo. No, 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 no Vedi perché è meglio in discesa? Io ne me lo tocca Lui c'è da piedi adesso da qua No, 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 no No, 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 no c'era anche quella facile ma era per non sminuirti non te l'ho fatta fare vedi dove scende perchè hai fatto quella difficile? più alta c'era quella facile e basta è andata